Ciao a tutti! Sto disegnando pietriche peste di fuoco e verso d'anno e sporgiandosi dalla popola del Pantheon. Sto usando una tecnica secca, quindi con pastelli soft pastel e le mattette incolate e pan pastel. Quindi ho cercato di realizzare questa base di colore, tutt'altro uniforme, per poter poi andare a lavorare in modo più grafico, con le battute colorate. Grazie a tutti!